Augusta, ladri in azione sui detti di un'abitazione individuati, arrestati due giovani. Nella serata di ieri i genditi del commissioneato di Augusta hanno arrestato due giovani rispettivamente di 22 e 19 anni, entrambi augustani già conosciuti dalla forza di polizia per il reato di furto in abitazione. Alle 18.45 gli investigatori del commissioneato Megaresi, avendo avuto contezza che sul tetto di un'abitazione tra via Megaresi e via Principe Umberto, vi erano due soggetti intenti a forzare una portafinestra, avviavano immediata indagine di polizia giudiziaria, parendosi anche di immagini utili tratte da telecamere di videosorveglianza poste nella zona dove è stato perpetrato il reato. Le immagini riprendevano i malviventi dopo che lasciavano l'appartamento e si davano la successiva fuga dai tetti dell'abitazione adiacenti. Alla luce di quanto sopra preso, gli agenti del commissioneato diretto del dottor Lamagna riconoscevano i malviventi in questione e si recavano nelle loro abitazioni. Giunti presso l'abitazione del primo veniva intercettati entrambi i ladri mentre uscivano dallo stabile. Gli indumenti indossati dal primo giovane corrispondevano esattamente a quelli immortalati dalle immagini. Inoltre, lo stesso veniva trovato in possesso di un azaino contenente parte della refurtiva, guanti e attrezzi atti allo scarso. Entrambi i ladri venivano pertanto sottoposti a perquisizione personale. Al primo venivano rinvenute banconote di varietaglio per un totale di 440 euro, mentre al secondo veniva rinvenuto contante per 400 euro. Nell'ambito delle indagini, gli investigatori controllavano attentamente i tetti dell'abitazione limitrofe, quella di uno dei malviventi, e riuscivano a trovare l'edificio dove i due soggetti avevano perpetrato il furto. Tale abitazione, sita a circa 10 metri dalla casa del primo ladro, risultava essere di proprietà di un uomo che, raggiunto telefonicamente dagli inquirenti, sporgeva regolare denuncia per il furto subito. Al termine delle indagini, i due sono stati arrestati per i reati di furto aggravato in abitazione e per possesso ingiustificato di Grimaldelli e posti ai domiciliari.